Templaria Festival è giunta alla sua ventunesima edizione, un intero paese che collabora alla realizzazione di questa manifestazione, un centro storico che è stato completamente rivisitato e rimodernizzato. Può dirci qualcosa? Una delle prerogative di Templaria è stata proprio quella del recupero del centro storico. Abbiamo recuperato il centro storico e quindi è stato anche riusato. Un centro storico che ci fa onore, attira parecchi turisti, per la sua conformità sembra quasi un museo a cielo aperto. Quindi lo abbiamo arricchito anche con questo bel museo e cercheremo anche negli anni futuri di completare l'opera iniziata 21 anni fa. Ecco, un intero paese quindi che collabora. Abbiamo sul territorio diverse sinergie che si attuano e si mettono in mostra e si muovono insieme per realizzare il festival. Infatti, Templaria ha tre aspetti. Un aspetto culturale che quest'anno noi abbiamo approfondito con Giacobbo, poi abbiamo, come abbiamo detto prima, il riuso del centro storico e la valorizzazione dei prodotti tipici. E dalla sinergia proprio di questa manifestazione con i buoni vini del Cantina di Castignano è nata dei prodotti tipici, tipo il Templaria, il Gramelot, quindi ottimi vini che vanno alla grande, quindi hanno un buon mercato. In maniera da ingentivare anche il duro lavoro dei nostri agricoltori.